La stagione del grande calcio comincia con una notizia importante per tutti i nostri abbonati. Sky e Dazon hanno annunciato di aver firmato un accordo che prevede l'arrivo della app di Dazon su SkyQ dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazon per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazon con le 7 partite per turno di Serie A Team in esclusiva Dazon e una selezione di altri eventi. Con questo accordo gli abbonati SkyQ via satellite o via internet che sono anche clienti Dazon potranno accedere all'offerta Dazon direttamente dalla sezione app o con il controllo vocale tramite il comando apri Dazon comodamente in un unico posto e con un unico dispositivo senza dover cambiare telecomando. Dazon offrirà inoltre ai propri clienti che sono anche abbonati a Sky la possibilità di sottoscrivere un'opzione per vedere una selezione di eventi dell'offerta Dazon anche attraverso il canale Zona Dazon disponibile dall'8 agosto al numero 214 del telecomando Sky. Sul canale sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A Team in esclusiva su Dazon complementari alle 3 che continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky. Cosa dovranno fare gli abbonati Sky per vedere il canale Zona Dazon sul 214? Dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all'interno della sezione My Account del sito Dazon.com. Chi non è abbonato a Dazon potrà aderire alle offerte Dazon standard o plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l'opzione per vedere il canale Zona Dazon. Insomma c'è proprio tutto per dire al massimo una nuova grande stagione di calcio su Sky. Tutto in un unico posto.